Case grandi, poco costose, spesso e volentieri riqualificate energeticamente, a canone mediamente basso, con le fatture per i lavori pagate in tempi brevi. Queste sono le caratteristiche che portano Belluno al primo posto nella categoria ricchezza e consumi nell'ambito della classifica della vivibilità delle province italiane, stilata dal sole 24 ore. Non basta però a mantenere Belluno in alto nella classifica generale. Il 35esimo posto certifica uno scivolamento di 17 posizioni rispetto a un anno fa. A penalizzare una provincia certificatamente tranquilla, che è la meno litigiosa d'Italia, la sesta meno interessata da reati legati agli stupefacenti e l'undicesima più estranea ai furti con strappo, sono essenzialmente due categorie di indicatori, ovvero affari e lavoro e demografia e società. Alcuni dati, Belluno è quinta per indice di presenza di pensionati in Italia, tra le prime 20 per ore di cassa integrazione e tra le ultime 20 per nascita di nuove imprese, ottava per iscritti all'aere, ovvero popolazione che vive di fatto all'estero, 79esima per indice di natalità. In generale, un territorio in cui c'è una grande dipendenza strutturale, ovvero 63 inattivi, minori e anziani, ogni 100 persone in età lavorativa. La classifica del sole 24 ore poi penalizza Belluno per il clima, giudicato il peggiore in Italia in base a soleggiamento, ondate di calore, piogge e umidità. Terzo posto per l'ecosistema urbano, ovvero la somma dei parametri su differenziata, consumi idrici, trasporto locale e in generale ecosostenibilità. Nella sezione cultura e tempo libero emergono due dati. In una provincia che punta molto sul turismo, c'è una delle dieci peggiori coperture di banda larga del paese, il 92esimo indice di presenza di ristoranti ogni 1000 abitanti e il 94esimo per l'offerta culturale. Il presidente della regione Luca Zaia guarda avanti. Il podio per ricchezze e consumi guarda un contesto più ampio e spinge ancora di più a lavorare e guardare in prospettiva in vista dell'appuntamento delle Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Questo il suo commento. Tra le Dolomiti la classifica viene accolta come uno spunto per migliorare alcuni aspetti. Non ci arrendiamo a un 35esimo posto, dichiara il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin. I sindaci ce la mettono tutta, ma serve più attenzione per la montagna da parte del governo centrale.